Presidente Sebastiani, si parla di mercato in queste ore, i giocatori del Pescara sono sempre più richiesti, diverse squadre di Serie A hanno messo gli occhi su Biarrason, si dice che l'Atalanta sia la squadra favorita, è così? Ci sono diverse squadre, però al momento non c'è nulla, in questi giorni qua si fanno le chiacchiere, il mercato dura fino al 30 di agosto, quindi ci sarà tempo per parlare di mercato, noi invece ci stiamo guardando intorno per vedere le possibili soluzioni in caso in cui questi ragazzi dovessero andare via da Pescara. Quando arriverà la firma di Massimo Oddo? Massimo Oddo è già a posto, non ha bisogno di fare nessuna firma, abbiamo fatto con lui un accordo biennale, quindi sta già lavorando insieme a Giorgio e a Peppe per la costruzione della squadra del prossimo anno. Passata l'amarezza per la polemica con Zeman? No, io non faccio nessuna polemica con Zeman, ho solo risposto perché è chiaro, se vieni chiamato in causa rispondi, ma oggi ho letto che addirittura mi ritenevo un amico, se ero io che lo ritenevo un amico, e lo ritengo un amico, poi mi lavora un'altra cosa.